Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, qui Francesco Guarino e siamo pronti a lanciarci sul tiraggio della settimana che è un tiraggio che facciamo a supporto della carta della settimana, ovvero il 3D bastoni che ci ricordava dell'importanza di far esplodere la nostra energia e di iniziare nuovi percorsi o mandare avanti i percorsi se quelli che già c'erano e insomma sono bloccati, con tutto ciò che ci appassiona, con tutto ciò che ci piace, con tutto ciò che ci brucia dentro la domanda che abbiamo posto alle carte è un po' particolare perché è quale passo posso compiere questa settimana ovviamente per avvicinarmi ai miei sogni più grandi e dico che è particolare perché a tutti gli effetti il 3D bastoni non parla propriamente di sogni più grandi di quanto di canalizziamo, facciamo esplodere questa energia, però mi piace cercare di inglobare anche un discorso un po' più ampio che in qualche modo si ricolleghi sempre al raggiungimento dell'obiettivo, a un senso di equilibrio, a un sogno che noi abbiamo soprattutto perché appunto questo è un tiraggio per il collettivo, è inutile andare a creare dei quesiti estremamente settoriali quindi vediamo insieme le carte estratte, vediamo insieme che consigli ci possono dare, vediamo insieme come canalizzare al meglio queste energie. Partiamo con la prima carta ovvero il 5 di spade che di solito anche nella tradizione simboleggia la sfida e simboleggia il conflitto, però è anche un arcano che ti sta dicendo che questa settimana non si tratta necessariamente di voler vincere a tutti i costi, piuttosto io credo che ci sia un momento che poi io adotto sempre, soprattutto qui sui social, in cui più che vincere o perdere devi scegliere le tue battaglie il mondo va troppo veloce per noi, non siamo in grado di far fronte a tutti i fronti e quindi scegliere le proprie battaglie diventa una condizione necessaria per riuscire invece di buttarci in scontri inutili, di farci prendere dall'ego, dall'ego cattivo cominciamo invece a chiederci cosa posso lasciare andare, cioè non tutto vale il mio tempo non tutto vale le mie energie, focalizziamoci su quello che conta davvero e ripeto, soprattutto nel mondo di oggi, lo vedo tutti i giorni oggi noi tagghiamo una persona in un commento e automaticamente scatta in noi quel senso di questa persona mi deve rispondere, se non mi risponde significa che non è educata, che mi sta ignorando no, semplicemente c'è un disinteresse verso di te, semplicemente puoi essere noioso semplicemente può non esserci la voglia di approfondire con uno sconosciuto e allora vedi, valuta quello, gli spaccati, le dinamiche che valgono realmente il tuo tempo rifletti sulle situazioni che ti stanno consumando senza però portarti da nessuna parte forse è il momento di fare un passo indietro, forse è il momento di lasciare che alcune cose si risolvano da sole semplicemente puff, facendole sparire, ecco concentrati sulle priorità, questo è il 5 di spade associamolo alla seconda carta del tiraggio e sto parlando del re di denari quindi parliamo qua di successo materiale, di strategia a lungo termine, di abbondanza è bellissimo come questo re di denari si ritrovi a voltare le spalle al 5 di spade cioè lui non se ne fa nemmeno un cruccio, ha una pienezza di sé così grande che non è ego, è consapevolezza, che lo porta a sentire questa chiamata cioè sei chiamato a costruire qualcosa di solido non si tratta solo di sogni ad occhi aperti si tratta di mettere in atto un piano concreto il piano concreto che ti permette di capire quello che vale il tuo tempo e quello che non vale il tuo tempo il re di denari ci ricorda che non basta desiderare qualcosa non basta desiderare il successo poi indipendentemente da quello che significa per te successo bisogna essere pragmatici, bisogna gestire le nostre risorse con intelligenza lo vedi come lui nemmeno si trova nel momento di guardare il denaro che ha in mano ci interagisce con disinvoltura perché ha padronanza e consapevolezza della situazione e allora per essere ancora più vicini a questa carta magari puoi creare una lista di cose da fare che ti mettano in linea con quello che stai desiderando però in modo realistico, in modo fattibile puoi iniziare a chiederti anche qual è quella piccola azione che puoi compiere oggi che poi ti porti a fare un passo avanti domani che poi si tratti di pianificare le tue finanze di creare nuove connessioni però fai quel passo inizia così con disinvoltura ma con concretezza e se il re di denari si trova a voltare le spalle a questo 5 di spade ecco che guarda il 2 di coppe quindi la connessione autentica la collaborazione la terza carta è il 2 di coppe che ci parla proprio di questo relazioni e collaborazioni quindi se vuoi fare davvero un salto verso i tuoi sogni perché non cercare anche l'aiuto di qualcuno un amico qualcuno che condivide la tua visione un partner ecco il 2 di coppe ti dice non farlo da solo la magia nasce quando ci uniamo ad altre persone con autenticità con cuore aperto ma soprattutto con la voglia di collaborare e il mio consiglio è quello di praticamente re di denari metterti in contatto con qualcuno che ti possa aiutare 2 di coppe ma anche ispirare perché le coppe hanno questa profonda connessione con l'emotivo fai una chiamata manda quel messaggio organizza un incontro con chi condivide le tue speranze le tue visioni i tuoi sogni la connessione giusta ti porta ad avere quel boost che stai cercando e che magari da solo da solo non riesci a trovare e allora credo che questa settimana per avvicinarti ai tuoi sogni più grandi devi scegliere con cura le tue battaglie quelle da combattere quelle che non ti fanno sprecare energie inutili e per farlo devi agire con una strategia ma anche con lungimiranza devi pensare come il re di denari e costruire il suo regno un passo alla volta ma con una grande visione del futuro e lo puoi fare se ti connetti agli altri se trovi degli alleati che possano supportarti in questo cammino amico mio per i prossimi giorni metti in pratica tutti i consigli che ti ho dato vedrai che sentirai una spinta verso ciò che desideri davvero magari questa spinta per qualcuno è iniziare a dare priorità ai progetti che contano per qualcun altro sarà mettere in atto un piano concreto per qualcun altro sarà trovare l'altro quindi qualcuno con cui condividere qualcosa mi raccomando io ti lascio qua non dimenticare di condividere questo video di mettere like o di iscriverti ma soprattutto di personalizzare questo tiraggio perché queste energie sono per il collettivo cioè sono per tutti anche se ti sentissi veramente in connessione con quello che ho detto o vai ad approfondire i significati delle carte oppure prendi i tuoi arcani prendi i tuoi significati prendi i tuoi metodi di lettura ed estrai tre carte tre carte o usi il tuo metodo di lettura ovviamente io dico sempre tre carte perché tre carte sono in grado di aprire di aprire di aprire mondi personalizza e noi ci vediamo presto per il prossimo tiraggio ciao